Salve a tutti quanti! Oggi parliamo di un gesto comune agli appassionati di mare, che voi facciate subacquei, apnea o semplicemente una nuotata con maschere e pinne. Vi tocca sputare nella maschera. E se non sapete che cosa io stai dicendo, sappiate che sì, noi subacquei sputiamo nella maschera. Mi metto nei panni di uno che si è appena affacciato in questo mondo, magari con il primo corso sub, e guardo i compagni sbalordito con un misto di curiosità e disgusto sul volto. Ecco, capite, sputare nella maschera è un gesto tribale, un rito in iniziazione. I più esperti guardano il neofita, trattenendo un sorriso. Con l'aria di chi la s'allunga prendono la maschera e con arroganza scaracchiano dentro. Col ditino iniziano a spalmare la bava, ben bene, guardandoti senza distogliere lo sguardo. E poi si aspettano che tu faccia lo stesso. E per non far rappandare la maschera, sputa, sputa. Ma perché? Perché funziona? Innanzitutto cerchiamo di capire perché si appanna. All'interno della nostra maschera si crea una camera satura di vapore. Un po' il calore della nostra pelle fa evaporare l'acqua presente qui dentro. Un po' noi espiriamo dal naso. Poi aggiungeteci anche qualche gocciolina di sudore riscaldata dalle nostre guanciotte. Ed ecco una camera colma di vapore aqueo. L'aria calda va poi a sbattere contro le lenti della maschera, che invece sono molto fredde per via del contatto con l'acqua all'esterno. A questo punto l'acqua sotto forma di vapore si raffredda velocemente e condensa, formando tante piccole goccioline sulla superficie della lente. La maschera si è appannata. Per incisio, questo è lo stesso identico fenomeno per cui all'esterno delle bottiglie ghiacciate si formano tante piccole goccioline. Ed ecco la spiegazione scientifica della birra sudata. Non si può in video? Ah no? Sì, abbiamo capito perché si appanna, ma che c'entra la saliva? La saliva fa sì che le gocce sulla superficie del vetro si rompano a formare un unico sottilissimo strato. Questo perché nella saliva ci sono sostanze chiamate tensioattivi, che abbassano la tensione superficiale dell'acqua. La tensione superficiale è quella forza che tiene unite le molecole d'acqua sulla nostra goccia, formando una sorta di pellicola. Vi è mai capitato di vedere uno di quegli insettini sul pelo dell'acqua? Oppure di riempire un bicchiere pieno pieno fino all'orlo senza farlo traboccare? Ecco, ci siete riusciti grazie alla tensione superficiale. Ed è la tensione superficiale che rende le nostre gocce sferiche. All'interno di una goccia ci sono miliardi di miliardi di molecole d'acqua. Ognuna di loro si vuole legare con le altre molecole d'acqua e quindi è attratta da tutte quelle che la circondano. Siccome è attratta e tirata da tutte le direzioni, la nostra molecola può andare un po' dove le pare. Le molecole che stanno sul pelo dell'acqua, invece, sono attratte solo da un lato, perché dall'altro c'è l'aria. Il risultato è che le molecole sul pelo dell'acqua vengono tirate, per così dire, verso l'interno della goccia. Ed è proprio per questo fenomeno che le gocce tendono a formare delle sfere. I tensioattivi della saliva alterano queste proprietà. I tensioattivi sono molecole piuttosto comuni, non ci sono solo nella saliva. E infatti devo ammettere che esistono un sacco di spray disappannanti in commercio. Non serve per forza lo sputo. Però noi subacquei siamo gente schifosa e sputiamo lo stesso. La saliva è economica, ecologica ed è molto pratica. Che vuoi di più? Ora proviamo a fare un piccolo esperimento. Come vedete, sulla superficie dell'acqua in questo bicchiere ho poggiato un ago. La forza che tiene unite le molecole d'acqua fra loro è così grande da sopportare il peso dell'ago, che resta a galla. A questo punto aggiungiamo un pochettino di sapone per piatti. Potrei fare lo stesso esperimento con lo sputo, ma per questa volta ve lo risparmio. Il sapone continua una grandissima quantità di tensioattivi. Anzi, vi consiglio di andare a vedere il video di Ruggero Rollini, che spiega bene come funziona. Per questo esperimento però vi basta sapere che i tensioattivi si dispongono sul pelo dell'acqua, all'interfaccia fra acqua e aria. Le molecole d'acqua sul pelo, invece di legarsi fra loro come abbiamo visto prima, si legano ai tensioattivi. E quindi la tensione superficiale e la forza che teneva le molecole fra loro diminuisce. E non riesce più a sopportare il peso dell'ago, che infatti affonda. Ora proviamolo nella pratica. Ecco, la stessa identica cosa succede nella nostra maschera, dove le goccioline sferiche che ci sono sul vetro della nostra lente si rompono. Perché i tensioattivi della nostra saliva, così come è successo col sapone per piatti, diminuiscono la tensione superficiale. Ora che conoscete la scienza dietro questo trucchetto, veniamo alla pratica. Prendete la maschera. Assicuratevi che sia asciutta. Sputate. Forza, sputate. Non si accettano timide goccioline. Vai! Perfetto! Distribuisci per bene? Et voilà! Siete ufficialmente un passo più vicini a diventare esploratori dei mari. Però sciacquola prima di tuffarti. Che schifo. E questa è una rischettiva più vicina. Non si accettano. Una rischettiva più vicina. Mi ecchettiva più vicina.